L'associazione Radici in Comune di Pescara sul piede di guerra. Ieri la presentazione di un dossier sulla riserva d'Annunziana. Non solo, l'associazione ha anche documentato quella che definisce inerzia gestionale naturalistica più totale. La replica del sindaco di Pescara, Carlo Masci. La riserva d'Annunziana è stata bruciata un'altra volta. Parole forti. All'associazione Radici in Comune mi viene soltanto da dire ci vediamo l'8 e il 9 giugno perché loro sono in campagna elettorale, sono una lista che si candiderà contro di me. Detto questo, sulla Pineda noi stiamo seguendo un percorso che ci è stato dettato non da oggi ma da oltre due anni da tecnici ed esperti che ci hanno detto che dovevamo aspettare due stagioni vegetative prima di ripurire quello spazio che era stato aggredito dal fuoco. Poi naturalmente stanno ricrescendo i pini, quelli che ricresceranno. Nel frattempo abbiamo messo da parte altri 500 pini, nel senso 500 piantine che abbiamo recuperato all'interno dell'area della pineta che serviranno per integrare le piantine che già sono nate e che hanno resistito alla natura perché è naturale che alcune piantine nascano, altre muoiano. Il legname della pineta incendiata? Quella è un'altra storia che si racconta ma il legname della pineta è lì e seguirà il percorso stabilito dalla legge perché c'è una legge che stabilisce come devono essere trattate le pinete e come deve essere trattato il legname che viene fuori dalle pinete e dalle riserve naturali. Un altro punto che è stato toccato dall'Associazione Riserva Danunziana non è dotata di un comitato di gestione di una direzione scientifica? Ma non è dotato da un comitato di gestione da quando è nato questo discorso cioè da 20 anni, 24 anni ma questo non vuol dire che chi sta operando per la pineta non abbia titoli perché noi abbiamo all'interno del comune tecnici, agronomi che hanno il compito di seguire la pineta e lo stanno facendo puntualmente. Il comitato potrà essere stabilito ma in ogni caso la pineta oggi è curata e credo che si veda anche perché la pineta è bellissima al di là della parte che è incendiata. Noi sappiamo che è un percorso difficile ma faremo in modo che torni ad essere quella che è stata sapendo che il fuoco l'ha aggredita ma sapendo anche che stiamo seguendo il percorso che ci è stato dettato da chi ne sa più di noi e ne sa certamente di più di quelli che parlano e che si presentano come candidati contro di noi.